In casa Conad Adriatico è tempo di bilanci. Dal 6 al 9 giugno nel villaggio turistico di Pugno Chiuso di Vieste si è tenuta la tradizionale assemblea per la presentazione del bilancio sociale. Un appuntamento importantissimo che serve per fare il punto della situazione economico patrimoniale del gruppo e discutere con i soci sui progetti futuri. Nella mattinata di sabato il direttore generale Antonio Di Ferdinando ha voluto incontrare la stampa per illustrare e condividere i risultati del 2018. Con una crescita del 15,5% rispetto al 2017 ed un volume d'affari di 1,2 miliardi di euro, il gruppo consolida ulteriormente il suo patrimonio e si posiziona come leader di mercato nelle regioni Abruzzo e Molise che hanno raggiunto rispettivamente con un incremento del 27,5% e del 22,7%. Significativo è il dato macroeconomico che vede la cooperativa come unico soggetto della grande distribuzione ad avere il segno positivo nell'area Nielsen 4. Ma qual è il segno di questo risultato? Il segreto non c'è, è la nostra storia, il nostro modello organizzativo che è diverso da tutti quanti gli altri e che ci consente, nonostante questi anni di crisi, di andare avanti e di crescere. Cioè il nostro modello in cui non c'è una proprietà, non c'è un di Ferdinando proprietario del Conard. Ci sono tanti soci che gestiscono i punti vendita, che hanno un gruppo di manager che gestisce l'azienda, ma loro sono quelli che stanno direttamente a contatto con i nostri clienti e penso che questo sia il grande punto di differenza rispetto a tutti quanti gli altri concorrenti. Convenienza, efficienza, rispetto dell'ambiente, utilizzo di energie rinnovabili hanno permesso al gruppo di tutelare il potere di acquisto dei consumatori in un contesto economico fragile e di profonda crisi, di mantenere inalterati i livelli occupazionali, la valorizzazione dei prodotti a marchio, l'inserimento di altri servizi come parofarmacie, ottica, pet food, i distributori di carburante e l'attivazione verso le aziende del territorio hanno fatto la differenza. Chiaramente questi prodotti locali non possono essere indiscriminati solo perché il locale è buono per stare sui nostri banchi. Questi prodotti locali devono superare una serie di test, di analisi che facciamo e dopo che hanno superato questo percorso di accertamento possono entrare nel nostro assortimento. Questo da un lato fa crescere l'economia locale, dall'altro lato spingiamo questi piccoli produttori a essere sempre più efficienti e sempre più all'avanguardia rispetto ai bisogni del consumatore. Certificare la filiera della produzione dei piccoli agricoltori o produttori di alimenti locali è una tranquillità che diamo al nostro consumatore, molto ma molto importante. Questo genera comunque dei costi perché comunque ci sono analisi di laboratorio da fare, ispettori che vanno sul campo, che vedono i prodotti e così via. Però questi costi sono una piccolissima parte rispetto alla garanzia di qualità e di certificazione della filiera che diamo al consumatore e questo ci viene riconosciuto. Con un patrimonio netto consolidato di 176,9 milioni si rafforza la solidità del gruppo che progetta investimenti per 78,6 milioni di euro nel prossimo triennio. Un capitolo a parte sarà riservato all'operazione di salvataggio del gruppo Auchan che consentirà, sempre nel segno della filosofia cooperativistica, il mantenimento dei livelli occupazionali e il rilancio dei punti vendita. Per il Molise quali progetti ci sono? Il Molise è una piccolissima regione e siamo già leader di mercato. Il nostro progetto è quello di riqualificare, non di fare nuove aperture e così via, perché comunque le quote ce ne sono già tanti di supermercati, anche in Molise, forse troppi. È quello di riqualificare i nostri punti vendita, cioè passare dal 500 metri al 1000 metri, perché questo rispetti molto di più quelle che sono le esigenze del cliente moderno, quindi un assortimento sulle nuove referenze bio, vegano, tutte queste cose qui, in cui in piccoli spazi è difficile da esprimere. E quindi siamo più in una logica di ristrutturazione e ampliamento che in una logica di nuova apertura. Grazie. Grazie.